A me un vestito così vale 50 mila, compresi il velo e i fiori d'arancio. Ma perché volete risparmiare? Dove dove avevano avuto questi soldi? Allora sapete che faccio? Ce ne scappiamo! Non spendiamo neanche un soldo! Pasqua! Che si è rubato Angela? E che me ne prega a me? Tu, tu, tu! E va bene! Vogliamoci! Voglio fare un esperimento! Vediamo se a questo paese finirà l'abitudine di scappare! Andiamo! Grazie! 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 Grazie!